siamo abituati a associare il giardino a un'idea di piacere il giardino delle delizie il giardino dell'eden il giardino dove tutti rifugi per stare bene eppure nella storia il giardino non è stato solo quello anzi ha rappresentato anche delle situazioni sgradevoli e volevo provare a fare una sorta di modernizzazione di questo concetto per chiederti poi tu come la vedi io sono francesco cecchetti e questo è giardino rivelato podcast dedicato all'arte dei giardini e al fatto che non se ne parla abbastanza di giardini quindi te lo dico subito faccio la marchetta iscriviti a questo podcast se vuoi che se ne parli di più perché così tutti gli algoritmi del mondo se ne renderanno conto tutti i tuoi amici e le amiche parenti e così via va bene detto questo perché il giardino non è solo un luogo di delizie allora nella nostra tradizione il giardino è stato anche associato a situazioni negative situazioni di dolore di sofferenza e a cosa ti riferisci io mi riferisco al fatto che per esempio se andiamo nella storia sacra nella storia nelle storie della bibbia che ovviamente hanno avuto una forte componente simbolica nella formazione della nostra storia della nostra identità culturale e dei simboli che poi abbiamo preso assimilato e portato nella nostra esperienza il giardino si riferiva spesso ovviamente al giardino dell'eden ed era la cosa più bella però ad esempio e il giardino dell'eden viene chiamato ortus deliciarum no il giardino delle delizie c'è anche l'ortus conclusus come può essere il chiostro di un monastero dove rifugiarsi dove trovare pace nel momento in cui il mondo in preda alla barbarie dove poter ricaricarsi per ricostruire il mondo un terrazzamento alla volta un manoscritto alla volta una preghiera alla volta però ci sono anche giardini dove non si sta bene come può essere ad esempio il giardino della storia di susanna e i vecchi che si trova nell'antico testamento e non ti dirò dove perché così se ti interessa lo vai a cercare cerca susanna i vecchi credo ci sia anche una pagina wikipedia dedicata beh questa storia in cui questi tre vecchi insidiano la giovane susanna e lei tenta di ribellarsi a questa cosa e loro invece dicono che in realtà è stata lei a provocare e il motivo per cui questa questa loro storia questa loro accusa viene smascherata è dovuta al fatto che lei poi racconta una storia e queste tre persone raccontano una storia uguale ma con tre dettagli diversi legati a quale pianta fosse presente lì mentre loro insidiavano questa questa donna questa ragazza questa è un'idea di un giardino che è rimasta come simbolo di una sofferenza di un luogo di insidie c'è anche il giardino dove si trovava la tomba di gesù e questa è un'altra è un'altra cosa che in qualche modo è rimasta collegata alla storia culturale dell'occidente perché è un giardino di attesa di sofferenza dove non si respira dove non c'è la gioia della vita a livello simbolico è molto forte come immagine il fatto che quella quella storia iniziata in un giardino il giardino dell'eden è terminata con la morte in un giardino poi sempre in questo stesso giardino veda avvenire la non la rivoluzione la risurrezione è interessante perché secondo me noi ci siamo dimenticati molto del fatto che il giardino non è una cosa buona di per sé il giardino è come non lo so come un quadro è come una statua è come un'opera d'arte come una composizione musicale non è detto che una composizione musicale sia buona non è detto che un quadro sia bello o ben fatto può essere che un quadro sia interessante ma non ben fatto può essere che un quadro sia una copia di un'altra cosa e comunque sia interessante insomma è un mezzo è un linguaggio il giardino è un tentativo di comprendere il mondo nello specifico la nostra relazione con la natura che abbiamo intorno ora nella nostra cultura il giardino si dibatte tra due estremi cioè tra il vedere questa cosa questo questo medium questo linguaggio questo giardino come una rottura di scatole che richiede solo tempo investimento di denaro oppure come una cosa bellissima che bisogna fare assolutamente e a seconda di questi due estremi in cui noi ricadiamo e magari a volte a seconda dei casi possiamo ricadere in uno o in un altro abbiamo due approcci differenti quindi abbiamo due visioni che secondo me sono entrambe estreme che si contrappongono però del giardino e secondo me queste due visioni sono un giardino che potremmo definire di rabbia e un giardino che potremmo definire di vergogna il giardino di rabbia è quello che io devo fare per forza mamma mia ma che pizza io devo per forza fare il giardino perché ho comprato la villetta e quindi sono obbligato a sistemare questo posto alla bella e meglio anche se non mi andrebbe e allora lì vediamo le cose più belle tipo prati finti tipo siepi finte tipo cose che si surriscaldano in maniera terribile e vengono passate come verdi perché sono colorate di verde e al lato opposto all'estremo opposto quello del del giardino di vergogna vediamo invece il fatto il desiderio di sparire il senso di colpa per il fatto che questo giardino debba essere almeno simbolicamente un pagamento che noi facciamo a madre natura per tutti i danni che abbiamo fatto ora queste due cose ritengo che siano entrambe vere il giardino richiede impegno può richiedere impegno economico può richiedere impegno di denaro l'ho già detto può richiedere impegno di lavoro può richiedere impegno di risorse allo stesso modo il giardino può essere una sorta di pezza che noi andiamo a mettere in quel posto in cui viviamo perché sappiamo che la situazione non è delle più rose sappiamo che la situazione ecologica non è bellissima sappiamo che quel nostro piccolo giardino se fatto bene può rientrare all'interno di una serie di punti di interesse ecologico può essere un punto di stazionamento per degli uccelli per degli insetti per degli anfibi o per per delle piante che sono interessanti o anche solo semplicemente per permettere all'acqua di essere assorbita dal terreno insomma un giardino è una cosa talmente complessa che può offrire tantissimi benefici però allo stesso tempo nel momento in cui noi ricadiamo in uno di questi due in uno di questi due estremi il rischio è quello di essere di fare di noi degli degli come dire dei fanatici di una di queste due visioni cioè vedere il giardino solo ed esclusivamente come una perdita di tempo oppure vedere ogni giardino che non è fatto in un certo modo che non va a risollevare a tentare di controbilanciare i terribili effetti che la nostra che le nostre scelte in ambito economico e di stile di vita e di industria e di consumo del suolo hanno creato io penso che si debba fermo restando che ognuno di noi sarà sempre tendente verso uno di questi due estremi penso che si debba trovare un qualcosa di intermedio come dire io sono convinto che un prato fatto da tante specie erbace un prato il più spontaneo possibile in cui magari posso inserire delle piante dei generi dei mix di semi che si trovano bene in quel posto perché sono più resistente alla siccità e anche perché magari hanno dei fiori che mi piacciono e che possono attirare degli insetti impollinatori ecco tutte queste cose credo che siano più belle di un semplice prato verde di un semplice prato di una o due specie basta il prato di una o due specie basta però che rimane verde più o meno a seconda del tempo del clima e così via ha delle caratteristiche che lo rendono vantaggioso in a seconda dei motivi che noi scegliamo di considerare importanti che possono essere anche semplici motivi di gusto però ecco sul gusto per esempio calcherei la mano perché se io dovessi convincere una persona a o meglio dovessi convincere se io volessi far vedere qual è il vantaggio di avere un prato multicolore multiforme che cambia nel corso dell'anno non è non punterei sul senso di colpa del dire ah ma guarda che tu stai consumando tanta acqua magari la direi questa cosa perché dovrei dire il fatto che determinate scelte hanno delle conseguenze ma secondo me è proprio più bello per esempio un prato di un certo tipo che assomiglia un pascolo magari anche se lo tagli e poi qua qualcuno arriverà e dirà no l'erba non la devi tagliare va bene ma comunque nel caso hai comunque fatto una scelta su un su una tua ricchezza che hai avuto su una ricchezza che hai avuto da una tua scelta non sulla privazione che hai compiuto e che compi costantemente nel rinunciare a quell'altra cosa e quindi secondo me sta lì la l'equilibrio tra queste due visioni tra il giardino di vergogna il giardino di rabbia cioè sapendo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una cosa devo saper dire quali sono gli svantaggi che sono svantaggi per me e svantaggi per gli altri o vantaggi per me e vantaggi per gli altri e magari in questo modo riesco anche a colorare quelle cose grigie o grigioscure o nere che mi ritrovo nel momento in cui vado a pensare un giardino esattamente come casa mia magari io ho dei gusti di un certo tipo però casa mia non la trasforma in un'opera d'arte perché le opere d'arte sono difficilmente vivibili e quindi devo fare dei compromessi allo stesso modo posso pensare di trasformare il mio giardino non in un giardino da visitare in cui non è possibile fare niente che non sia fare delle foto perché è solo immagine ma che sia un posto in cui stare bene in cui passare bene del tempo e decidere di destinare delle parti di questo giardino a cose che non sono utili solo a me al mio senso pratico ma anche a un'estetica che è anche etica come dire un pezzo di prato in cui lascio crescere le erbe spontanee un quadrato magari e fa da contrasto al resto potrebbe essere una scelta di design che anche una scelta filosofica se vogliamo ora in tutto questo secondo me ci sarà ancora da esplorare perché ad esempio nel canale telegram di giardino rivelato stiamo facendo stiamo discutendo anche di questo sul giardino all'italiana sull'ordine la natura se sia meglio avere un giardino ordinato oppure no se sia meglio avere un giardino del tutto naturale oppure no ora io non non prendo posizione in questo momento ci sarà tempo per parlare e secondo me se hai ascoltato qualche episodio di giardino rivelato forse hai capito anche come la penso ma credo che sia un argomento molto complesso e che non si può esaurire nel corso di un unico podcast quindi ecco vorrei sapere cosa ne pensi se senti di ricadere più nel giardino di rabbia o nel giardino di vergogna o se invece no io voglio il giardino delle delizie non me ne frega del resto anche il giardino delle delizie secondo me può avere una di queste due sfumature ecco fammi sapere di quale sfumatura senti di avere i colori e fammelo sapere con un commento sotto questo podcast oppure nel canale telegram giardino t punto me slash giardino rivelato e oppure su giardino rivelato punto it dove possiamo rimanere in contatto a questo punto io ti saluto e grazie di aver passato questo tempo a chiacchierare con la scusa dei giardini ciao